Falce di rigore al 95esimo, non ci credo Luca, non ci credo Luca, doveva già essere finita al 94esimo, ci danno rigore contro, ci danno rigore contro, incredibile Luca, doveva essere finita al 94esimo, incredibile, Doveri ancora lui, ci lascia il 9 a Bologna, ci dà rigore contro al 95esimo, che doveva essere finita al 94esimo, incredibile. Incredibile Luca, di tutto fanno in questo stadio, lo sapevamo, il braccio era attaccato, loro gli piace vincere così di rigore quando ormai la partita doveva già essere finita, che meraviglia, e loro preferiscono vincere così, il loro modo, è la firma indelebile. Di Bala contro Donnarumma, abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.